buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di lime da legno si tratta di otto lime con forme e fogge diverse sono delle lime che trovano impiego nella lavorazione del legno per realizzare statue per lavorare in tagli per lavori di precisione otto differenti lime da usare su ogni tipo di legno a questo punto buona visione e buon lavoro grazie 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 grazie